taglie e movimento in dungeons and dragons 2024 cosa dice una ai intelligenza artificiale sull'argomento ma prima di ascoltare tutto il mio video vi ricordo il mio motto giocate con leggerezza non prendetevi troppo sul serio e non prendete troppo sul serio ciò che vi dirò in questo video oggi pertanto vi parlerò di taglie dei personaggi e loro movimento in dnd 2024 ma chi sono io io sono lorenzo il vostro dungeon master vintage il manuale mordenkainen presenta mostri del multiverso di dnd quinta edizione ha rimosso per la prima volta la differenza di velocità tra creature di taglia piccole e taglia media questo concetto non era un dogma preciso e strutturato nelle regole della quinta edizione infatti nel manuale del giocatore della quinta edizione troviamo ben tre creature che possiedono una velocità ridotta sono gli gnomi gli elfling e i nani mentre gnomi ed elfling sono razze di taglia piccola i nani sono creature di taglia media mordenkainen livella verso i 9 metri di movimento ogni razza a prescindere dalla loro taglia piccola o media ad esclusione dei centauri che si muovono più velocemente in dnd 2024 questa normalizzazione della velocità di movimento è stata messa a regime anche per gnomi e i fling e nani ho provato pertanto a chiedere due note intelligenze artificiali cosa ne pensassero di questa regola non vi dico quali sono ed ho ottenuto delle spiegazioni molto simili una intelligenza artificiale mi ha fornito una spiegazione molto sintetica la seconda invece una spiegazione simile alla precedente ma molto più articolata e approfondita vi propongo pertanto questa seconda spiegazione poiché fornisse più spunti al video naturalmente i miei commenti saranno leggeri ironici non cerco assolutamente polemica e pertanto andiamo a vedere tagli e movimento in dnd 2024 come mai sono state normalizzate vediamo cosa dice una famosa intelligenza artificiale prima argomentazione proposta equilibrio di gioco vediamo a video la spiegazione che mi ha dato l'intelligenza artificiale una delle ragioni principali potrebbe essere bilanciare meglio le meccaniche di gioco nelle versioni precedenti le creature di taglia piccola erano spesso svantaggiate in termini di movimento il che poteva limitare le loro capacità in combattimento e durante l'esplorazione consentendo loro di muoversi alla stessa velocità delle creature di taglia media il gioco diventa più equo evitando che le razze piccole siano percepite come meno efficaci rispetto a quelli di taglia media allora vediamo di fare il punto allora certamente le creature di taglia piccole si muovono naturalmente più lentamente perché hanno un passo una falcata più corta rispetto alle creature di taglia media e giocando per anni con un amico che ha sempre interpretato l'enfling ladro non mi è mai sembrato comunque che questo svantaggio di un metro e mezzo fosse così altamente limitante nelle sue capacità di ladro ciò che Milano sia un po' perplesso di questa spiegazione data dall'intelligenza artificiale è la seconda parte della spiegazione ovvero sia consentendo loro di muoversi alla stessa velocità delle creature di taglia media il gioco diventa più equo e io mi chiedo perché il gioco dovrebbe diventare più equo cioè creature di taglia piccole avranno le caratteristiche differenti rispetto alle creature di taglia media invece se hanno ambedue la stessa velocità il gioco diventa più equo evitando che le razze piccole attenzione siano percepite come meno efficaci rispetto a quelli di taglia media ma questa spiegazione mi lascia un po' perplesso perché dnd non è una gara di velocità in cui tutte che ne so le pedine devono muoversi alla stessa velocità per vincere una competizione ed inoltre vi sono vari fattori che influiscono sull'efficacia di un personaggio di certo la velocità può essere una di queste però c'è anche la magia l'armatura il tipo di arma che uno brandisce e così via poi sembra quasi si abbia paura che le razze piccole siano percepite come meno efficaci perché la diversità è bella il fatto che un personaggio che un avventuriero sia di taglia piccola con delle caratteristiche differenti dalle creature di taglia media secondo me è un valore aggiunto poiché la diversità è bella quindi secondo me questa spiegazione data da questa intelligenza artificiale secondo me non regge semplificazione delle regole dnd 2024 sembra ammirare a una semplificazione delle meccaniche per renderle più fluide e accessibili beh insomma basta che vediamo la parte sulla furtività del nascondersi su cui ho fatto da poco un video per capire quanto queste meccaniche siano diventate più fluide e accessibili comunque rimuovendo la differenza di velocità basata sulla taglia si riduce il numero di regole specifiche da tenere a mente durante il gioco questo può facilitare la vita sia i giocatori che i dungeon master allora chiaramente questa intelligenza artificiale stava facendo ironia in quanto 1 non c'è nulla da tenere a mente in quanto la velocità di movimento è scritto nella scheda 2 le regole di dnd sono ben più complessi di questa e di certo non è la velocità di movimento che mi farà scoppiare il cervello fantasia immersione potrebbe essere una decisione presa per rendere il gioco più coerente dal punto di vista della narrazione nelle storie fantasy i personaggi piccoli spesso sono agili e in grado di tenere il passo con quelli più grandi anche se hanno gambe più corte pensiamo a personaggi come gli elfling che nella narrativa fantasy sono rappresentati come avventurieri capaci quanto gli altri infatti sono avventurieri capaci anche gli altri che sfruttano anche la loro statura per fare cose che altri personaggi non fanno qui proprio la velocità di movimento non c'entra anzi proprio nella narrativa io credo che proprio la velocità di movimento non venga mai citata gioco dinamico e inclusivo bene andiamo a vedere dove andiamo parare con questa affermazione dnd 2024 punta ad un'esperienza di gioco più dinamica dove ogni personaggio può partecipare attivamente senza sentirsi limitato da caratteristiche fisiche come la taglia allora prima di tutto vorrei capire perché il gioco dovrebbe essere più dinamico se tutti quanto hanno la stessa velocità di movimento comunque il fatto anche che il personaggio possa sentirsi limitato da caratteristiche fisiche come la taglia insomma il personaggio interpretato non è il giocatore e il fatto che tu interpreti un personaggio che ha caratteristiche fisiche differenti da un altro dovrebbe darti degli spunti interpretativi aggiuntivi invece in questo caso qua si viene tutti quanti normodotati e poi il personaggio mica si offende insomma se è un po più piccolo di un altro per quale motivo dovrebbe sentirsi limitato comunque andiamo oltre dando a tutti i giocatori le stesse opportunità di esplorazione e combattimento si migliora l'inclusività del gioco allora questo non capisco proprio dove parta questo discorso di inclusività del gioco perché non è vero che tutti i giocatori hanno le stesse opportunità di esplorazione e combattimento ad esempio se tu interpreti un ladro hai maggiore opportunità di esplorazione ad esempio anche rispetto al solito monaco che non possiederà mai in tutta la sua carriera sempre che non prenda talenti opportuni non possiederà mai appunto la maestria in fortività un ladro avrà maggiore opportunità di esplorazione rispetto a un guerriero che magari è costruito attorno a una pesante armatura un ranger ad esempio a maggiore opportunità di esplorazione e combattimento rispetto a un chierico quindi non capisco come mai se tutti quanti si muovono alla stessa velocità si migliora l'inclusività del gioco e quindi continua permettendo a ciascun giocatore di scegliere la razza che preferisce senza dover accettare compromessi mi sembra proprio una spiegazione che non sta né in cielo né in terra credo che qui si faccia una grossa confusione tra vita reale e mondo fantastico faccio fatica a pensare come un'intelligenza artificiale possa ritenere che se tutti quanti si muovono alla stessa velocità si migliori l'inclusività del gioco l'inclusività deve esserci al tavolo da gioco tra i giocatori invece forzare uguaglianze tra pezzi di regolamento mi sembra una visione distorta ad esempio nel gioco degli scacchi fareste mai muovere il cavallo come un alfiere poiché è l'unico pezzo a possedere uno strano movimento no non ci siamo comunque andiamo oltre allora vi ricordo che tutto ciò che ho letto sono le considerazioni di un'intelligenza artificiale sull'argomento e non c'entra nulla con i comunicati ufficiali emessi dalla wizard ma facciamo un passo ulteriore e proviamo ad ipotizzare con un po di leggerezza come una creatura fantastica ed immaginaria di taglia piccola possa camminare alla stessa velocità di un goliath vi propongo i seguenti modelli di movimento fantastico sono in totale quattro e sono utili a giustificare la medesima velocità di movimento quale sceglierete parto dal primo e l'ho chiamato movimento con gambe a fisarmonica le creature di taglia piccola possiedono le gambe a fisarmonica o a mantice quando sono fermi il mantice compresso ma quando camminano il mantice si estende fino alla lunghezza delle gambe di una creatura di taglia media se siete nativi del reame fatato l'estensione e la compressione del mantice potrebbe generare un suono uscente da qualche orifizio a vostra scelta secondo movimento movimento a 16 fotogrammi al secondo se avete visto alcuni film muti vi sarete accorti che tutti i personaggi si muovono velocemente cioè dovuto al fatto che venivano girati a 16 fotogrammi al secondo con l'invenzione del sonoro nel 1927 si passò a 24 fotogrammi al secondo una creaturina di taglia piccola potrebbe muoversi esattamente come in un film muto quindi in modo accelerato tutto il suo metabolismo potrebbe essere accelerato compreso il modo di parlare a meno che non preferiate optare per l'opzione muta in tal caso potreste silenziare il personaggio per sempre beh niente male questo movimento a quattro zampe molti animali nonostante siano più piccoli di un normale essere umano sono in grado di muoversi più velocemente grazie all'andatura a quattro zampe le creature immaginarie di taglia piccola potrebbero possedere arti in grado di permettere questa andatura al trotto e al galoppo e per finire la mia preferita movimento per manina se avete figli o fratelli ancora piccoli avrete sicuramente sperimentato l'esigenza di prenderli per manina per far loro percorrere alcuni tratti di strada velocemente in combattimento potreste prendere per manina le creature di taglia piccola per migliorare la loro deambulazione naturalmente ciò sarà fatto anche dalle creature nemiche ed otterrete un divertentissimo scontro in cui tutti si prendono per mano e magari fanno pace allora quali di questi movimenti adotterete al vostro tavolo da gioco allora io vi dico sicuramente il movimento per manina lo proporò il mio dungeon master ed ora mancano i saluti finali allora prima di tutto vi ricordo che tutto ciò che ho letto nella prima parte è stato generato da un'intelligenza artificiale e non è assolutamente opinione della withers invece manca davvero poco all'uscita di dnd 2024 il canale telodoyoldungeon.it continuerà a fare ancora approfondimenti su dnd quinta edizione almeno penso per tutto il 2025 almeno fino a quando non uscirà dnd 2024 anche in italiano cercherò tuttavia di alternare contenuti sia per la quinta edizione di approfondimento e sia anche per dnd 2024 non partirò facendo video sulle classi dei personaggi in quanto online ne trovate già abbastanza penso invece che mi dedicherò maggiormente alle meccaniche di gioco che quelle che mi interessano di più almeno per iniziare a capire come funziona questa nuova edizione e come funzionano le sue regole allora se vi è piaciuto questo video vi chiedo di fare un piccolo mi piace e magari aggiungete anche un piccolo commento sulle motivazioni offerte dall'intelligenza artificiale o sui quattro tipi di movimento che io vi ho proposto per giustificare la stessa velocità di movimento e con questo ragazzi è tutto io vi saluto vi ricordo sempre di giocare con leggerezza ciao ragazzi al prossimo video ciao ciao